Anche San Benedetto torna ad avere un evento sportivo estivo, prestigioso e brillante, un trofeo di tennis internazionale che porterà in città campioni, belle donne e un pizzico di mondanità. Ieri sera infatti è stata presentata la Carisap Tennis Cup 2008, il torneo che si svolgerà dal 5 al 13 luglio presso il Circolo Tennis Maggioni. Si tratta di un'imponente competizione che riporta il grande tennis in città dopo due anni di assenza. L'ultima edizione di un torneo risale infatti all'estate 2005, quando il Circolo ospitò un internazionale da 10.000 dollari di montepremi. Quest'anno il torneo, un challenger ATP, porterà nelle mani del vincitore ben 30.000 euro, grazie al contributo del Comune, di Regione e Provincia, della Camera di Commercio e della Carisap. A presentare l'evento ieri sera il presidente del Circolo Pierluigi Tassotti, il sindaco Giovanni Gaspari e l'assessore allo sport Eldo Fanini. Inizialmente l'evento sportivo era in programma per la settimana di ferragosto, poi però gli organizzatori hanno potuto approfittare del forfè di Mantova, che ha rinunciato al proprio torneo per difficoltà economiche. Grazie a tale rifiuto, la Carisap Cup è stata quindi spostata in un periodo più adatto ad una competizione del genere. Durante il torneo, inoltre, il Maggioni allestirà un villaggio ospitalità per eventi di intrattenimento, degustazioni enogastronomiche e serate danzanti in musica. L'organizzazione, con al timone Cristina Gnocchini, conta di portare in riviera anche vecchie glorie del tennis italiano e internazionale. Il tutto nell'ambito di un torneo che, come da tradizione, miscelerà sapientemente attrattive sportive e turistiche ad un pizzico di mondanità. Grazie a tutti.